Nella Baia del Sole, la città del Muretto, Andalassio, negli ultimi due anni a fine campionato che succede? Che chi vince realizza il murales della squadra che ha vinto, ovviamente artisticamente con tutte le tensioni del caso L'anno scorso ha vinto l'Inter, ma quest'anno hanno vinto loro, abbiamo vinto noi, i Milanisti In questo se ne parla colui che ha voluto realmente realizzare questa opera, Fabrizio Calò La passione per il Milan è praticamente, l'avevo quando ero nella pancia della mia mamma, è una passione esagerata E' quando mi hanno detto i ragazzi qui di Alassio, esattamente i tifosi rossoneri, quelli che vanno vestiti di rosso nero Creiamo un'opera, ho detto sì, facciamola, ci siamo, cosa facciamo? Non potevamo fare che Ibra, che rappresenta la nostra essenza rossonera Rosso nera, grande passione rossonera Rosso nera